Anche la scorsa notte è continuato ad aumentare il numero dei migranti a 20 miglia. Ormai si è giunti a quota 800, ovvero quasi al massimo dell'emergenza registrata ad inizio estate. Si tratta in prevalenza di persone di nazionalità sudanese che ora vengono ospitate presso il centro d'accoglienza allestito dalla prefettura al Parco Roia e gestito dalla Croce Rossa. Il problema è che la struttura ha una capacità d'accoglienza di 360 persone, quindi meno della metà di quelle presenti. Per sopperire alla carenza di posti letto all'interno dei container, la Croce Rossa ha allestito un'area con brandine da campo. Continuano ad arrivare i migranti che nei giorni scorsi sono sbarcati in sud Italia, ha detto il responsabile del centro d'accoglienza Walter Muscatello. Noi non mandiamo via nessuno, chi viene riceve i pasti e ha la possibilità di usufruire dei servizi igienici. Situazione difficile anche nella chiesa di Sant'Antonio, dove vengono accolte intere famiglie provenienti soprattutto dall'Eritrea. Il numero cambia giornalmente, ha detto il parroco Don Alvarez. Oggi ci sono circa 100 persone. Sulla situazione è intervenuto anche il presidente della regione Giovanni Toti. A neanche 24 ore dalla firma della Carta di Genova, con proposte di buonsenso al governo per la gestione dei migranti, già ci troviamo ad affrontare un'altra emergenza, ha detto Toti. 20 miglia è la dimostrazione che siamo molto lontani dalla risoluzione del problema e anzi, con il passare dei giorni, la situazione è tornata ad aggravarsi. Le nostre richieste non possono rimanere inascoltate. Il documento elaborato e condiviso durante l'incontro trilaterale tra i governatori Toti, Maroni e Zaia, aggiunge la vicepresidente e assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione, Sonia Viale, contiene anche la richiesta al governo di soluzioni ad hoc per le regioni di confine. Su 20 miglia, conclude, la nostra attenzione resta alta, visti gli arrivi senza sosta di immigrati nel nostro paese, che hanno già raggiunto quota 123.000 nel 2016, superando il dato complessivo del 2015.